L'ex governatore Michele Iorio è tornato sul tema caldo della sanità, convocando la stampa per ribadire come occorre invertire subito la rotta tracciata dall'attuale presidente Frattura, prima che sia troppo tardi. Garantire l'emergenza, ha ribadito Iorio, è necessario e la regione dovrebbe battersi per tutelare il diritto alla salute dei molisani e non demolirlo attraverso lo smantellamento dei suoi ospedali. Il fondo, oggi esigua a disposizione del Molise per garantire un servizio essenziale e dignitoso, andrebbe adeguato, ha continuato Iorio, a quanto previsto dal decreto sul federalismo fiscale, che assegna alle regioni più piccole le risorse necessarie per garantire i livelli essenziali di assistenza. Dunque è l'opposto di quanto si sta verificando attualmente, che vede il Molise penalizzato e scontare i suoi piccoli numeri. Guardi, quello finanziario è in questi termini. Noi abbiamo ottenuto, quando io ero al governo, nella legge sul federalismo fiscale una norma per le piccole, di salvaguardia per le piccole regioni. Per effetto di questa norma legislativa che noi abbiamo ottenuto, si deve fare un fondo speciale di sostegno alle regioni più piccole, in maniera inversamente proporzionale alle loro dimensioni. Quindi, parlando di regioni a statuto ordinaria, il Molise deve avere più di tutti. Significa che quei 30 milioni all'incirca di disavanzo che ogni anno si accumula, per cui dopo 10 anni diventa 300 e dopo 2 come frattura diventa 60, 70 o quant'è, viene in pratica risolto dallo Stato che interviene perché quel debito o quel disavanzo non è dovuto a una cattiva gestione, è dovuto al fatto che i servizi, in una piccola realtà, costano di più. Tutto qui. Tra i tasti dolenti, il mutuo è il decreto Balduzzi che va impugnato a tutti i costi, ha dichiarato l'ex presidente. Il decreto Balduzzi poi ci ha tagliato le gambe sulla possibilità di avere servizi di emergenza all'altezza della situazione, per sempre, perché il regolamento vale a prescindere dai piani di rientro e noi lo imbugneremo.